Firenze è sicuramente una delle città turistiche più visitate al mondo. In certi casi l'impressione è che addirittura i turisti siano anche troppi. Sorge spontanea la domanda, perché non dirottare questo turismo verso le numerosissime località che conformano la città metropolitana ricche di attrattive turistiche? Bisogna riprendere la giusta strada e proporre al visitatore percorsi alternativi che conservano per di più il sapore della novità, per non dire dell'esclusività, e che trasmettono al turista sensazioni in qualche misura più autentiche. Perciò l'Unione fa la forza e i comuni metropolitani fanno rete per elaborare strategie condivise sul fronte della preparazione delle località all'accoglienza e su quello della comunicazione. È il caso di Signa e Lastra Signa. Alle porte di Firenze, le Signa e città turistica è l'iniziativa promossa dai comuni di Lastra Signa e Signa presentata alla presenza dell'assessore al turismo della regione toscana Stefano Ciuoffo, della sindaca di Lastra Angela Bagni e del sindaco di Signa Giampiero Fossi. Nel corso dell'evento è stato reso noto il materiale promozionale realizzato sui due territori, in particolare mappe, video e immagini fotografiche. Progettazione turistica quindi integrata tra i due comuni alla luce del protocollo d'intesa firmato lo scorso 10 gennaio dal titolo per la promozione e valorizzazione congiunta ed integrata dei territori dei comuni di Lastra Signa e Signa. Tema che a livello d'aria vasta nasce anche dal piano strategico della città metropolitana di Firenze. Beh, c'è una struttura, un pensiero dietro queste azioni ed è il processo di ricostruzione di un sistema di comunicazione, di coinvolgimento dei territori, di coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni. Il turismo si fa come si fa a qualsiasi attività di impresa ma si fa con l'efficacia che in Toscana può essere ottenuta in un'attività che ha mercato, ha una forte domanda ed ha in questo momento ancora un'articolazione di prodotti non pari alle opportunità che potrebbe costruire. Il lavoro degli ambiti, il lavoro che questa sera si avvia è sostanzialmente questo, cercare di raccontarla tutta la Toscana, di raccontarne le sue storie, le sue tradizioni, i popoli che compongono la storia di questa regione. Sicuramente la scelta che è stata fatta dalla regione toscana e la presenza dell'assessore Cioffo oggi lo dimostra ampiamente è stata una scelta vincente, una scelta che fa sì che forse la gente non conosce i confini, però conosce la Toscana, conosce Firenze e noi come ambito turistico di Firenze abbiamo lavorato profondamente per dare unità a un territorio che ne fatti è sempre stato unito. Stiamo lavorando per offrire ai nostri cittadini e ai turisti quanto di meglio ci può essere, soprattutto la conoscenza di luoghi che sono parte essenziale della grande Firenze. Quello di Lasta a Signa è un territorio che sorprende, che si svela a tappe con momenti che passano per tutti i borghi, le pievi, gli itinerari naturalistici che questa zona, a due passi da Firenze, ha da mostrare. La lastra è circondata da piccoli borghi da percorrere tutti quanti in lungo e in largo anche solo per gli scorci su olivi e vigneti che regalano. Lo stesso Enrico Caruso scelse di fare di villa per lo sguardo la sua casa. Questa dimora è ora un museo dedicato all'artista. Tra fotografie d'epoca, cimeli e costumi di scena si ripercorre la sua affascinante carriera. L'identità di Signa è strettamente legata all'acqua. La corrente dell'Arno su cui la città sorge ha portato occasioni di commercio e molteplici scampi. Il ponte sul corso del fiume del 1120 è stato a lungo l'unico tra Firenze e Pisa ed è stato fondamentale per lo sviluppo mercantile della località. Se si vuole conoscere l'itinerario che ha portato Signa a essere conosciuta in tutto l'Occidente si deve visitare il Museo della Paglia e dell'Intreccio che contiene una appassionante raccolta di cappelli e un percorso dedicato agli attrezzi e ai macchinari per la lavorazione della paglia.